Ma perché non far entrare anche i vostri studenti all'interno di BIOS? Non è mica dietato. Si creano un account e poi entrano. E voi vedrete come si comportano i vostri studenti in questo social. La smettono immediatamente di scrivere qualsiasi sciocchezza sono abituati a scrivere nei social che sono abituati a frequentare. Ci sarà un rispetto reverenziale all'interno di BIOS. Perché? Perché si rendono subito conto di avere a che fare con degli artisti. E quindi non disturberanno il lavoro degli artisti. Saranno molto cauti e non scriveranno cretinate a queste persone che dedicano il loro tempo per rendere il mondo un po' più bello ai nostri occhi. Perché loro capiscono questo. E quindi è anche uno strumento educativo incredibile questo. E poi potete con i vostri studenti entrare in contatto con questi artisti. Per esempio avete una scelta una a caso. Vediamo come si chiama. Lenni Wen. Lenni Wen. Fantastica Lenni Wen. Guardate che disegni fa. Ma Lenni Wen ci mostra anche come realizza questi disegni. Allora, sentite. Se voi scrivete a Lenni Wen e le mandate un po' di foto della classe, di quello che fate e di come lo fate, con quali strumenti, potete chiedere a Lenni Wen di stabilire un collegamento di una mezz'oretta. Magari Lenni Wen parla solo inglese, chi lo sa. Vi arrangiate. Se non sapete tradurre voi, chiedete al vostro collega di inglese. Fate un collegamento con Lenni Wen e chiedete a Lenni Wen di dare qualche consiglio ai vostri bambini o ai vostri studenti più grandi. Perché no? Ricavate dal rapporto con Lenni Wen delle occasioni per studiare, per andare avanti, per ispirare. Guardate che carina questa. Qui potete passare il tempo, non su Facebook. Alla sera, anziché perdere le ore su Facebook, Twitter, eccetera, a leggere gli esposti narcisisti di chiunque pensa di essere in diritto di sentenziare sulla vita, invece è passato il tempo a godere dei prodotti che trovate all'interno di Beans e di vedere anche come sono realizzati. Vedete, lei per esempio in questo caso fa uno schizzo con una matita grossa. Non è sempre così. E poi dopo lo schizzo viene poi rielaborato. Fino ad arrivare al risultato finale. Abbiamo visto delle illustrazioni, ma c'è cinema, c'è fotografia, c'è di tutto qui all'interno. Fino ad arrivare al risultato finale.